Ragazzuoli mi raccomando lasciate un mi piace in questo video perché perché se arriviamo a 7000 mi piace in questo video farò sfidare il ragazzo che ha fatto questo provino con uno degli str ovviamente in 1v1 in creativa vedremo se riuscire a batterlo e in quel caso fidatevi che accadranno tante belle cose chi è più intelligente avrà già capito perché è un provino 1v1 Scrivetemi il commento qui sotto di quale sarà l'STR che dovrà affrontare quello con più commenti appunto lo faremo sfidare 7000 mi piace in questo video e mi raccomando ragazzuoli Vi ricordo inoltre che l'1 giugno alle 9 di mattina ci sarà la maratona su Twitch 12 ore con gli STR la World Cup e tutto il resto vi lascio inoltre il link ragazzi in descrizione per acquistare le maglie e le felpe del team ovviamente taggatemi su Instagram così che vi possa ripostare E vi ricordo ragazzuoli che il 3 giugno finirà il contest con Antec quale contest? Tutte le persone che inseriranno il codice creatore Piazza Provini nello shop di Fortnite e mi taggeranno su Instagram Andrea Piazza Ratino Basso Verranno appunto inserite nel contest dove faremo un'estrazione e la persona che uscirà ovviamente tramite random.org quindi casualmente vincerà appunto un PC a casa grazie ad Antec che mi sta fornendo praticamente tutto il PC Quindi iscrivetevi al canale, buona visione ragazzuoli Almeno c'ha il pompa La gioca è easy, pulita Panteria Easy Iard C'è il mod C'è il mod C'è il mod Sato Ah Z Grazie a tutti. Oh, da cosa è uscito? GG. Questa è una tosta. Questa è una tosta. Questa è una tosta. Che bello. GG, bravo, bravo. Gioca tranquillo. Ricordati che è una pubblica. Riesci tranquillo. Raga, avete letto cosa ha scritto Vivi Fusca 02? Ma secondo voi sta trollando o è serio? Raga, lo leggo ad alta voce. Tu sei negli STR solo perché sei il fondatore. A voi le risposte. Ma sta trollando, sta trollando, raga. Non può essere serio. Non può. Non sta scherzando. Banks è nei phase solo perché lo ha fondato. Banks, vergogna. Cioè, Banks. Dai. Sì, sta trollando in orbita. Non ti pare. Non può essere serio, ma che è impossibile. Oh. Ce l'ha, ce l'ha. Sì, sì. Sta giocando a Minecraft. Quello, no? A Fortnite. Va bene. Vai, se lo vinti un po', almeno capisci. Bianco-blu. Spero quell'altro. Non si sa. Sali. No. Non l'hai tato? Ma il merino c'era. Eh, i materiali. Non sono forti per niente. Li può tranquillamente piccolare. Dai. Non scherzi. Non scherzi. Non scherzi. Va be' impazzita, pabbè. Mi sono cagato addosso, l'ammetto. bravo sto ragazzi 3 yardi bellissimo 3 yardi è bellissimo GG bro Faze Jake Nuovo teammate di Tfew Attenzione raga Però serve shield Potevo andare a lutarlo Magari ci aveva qualcosina Cosa ottengono i piedi dell'accademia Se dovesse servire qualcosa A livello di hardware Tipo mouse, astiere, calze e mazzi Ci penso io a quello E la possibilità Comunque di Che do la lobby Non muore più nessuno Ok stavo morendo Pompa Bella Rawanit Bravo Pompa viola Nice Pompa viola Nice Pompa viola Pompa viola Ok Bro T'ammazzo T'ammazzo Nooo Dai bro Dai Eppo un po' L'ha lasciato lì Peccato Porca puttana Basta saltare Basta saltare Bravo Più salta Più lo hitano Col cieco Eh non entro Non entra Cazzo Trappole Gli ha detto bene Gli ha detto bene Rimaneva con uno Madonna Oh Nice No No Provera Due Mirata Bravo Può nemmeno Una killarla A meno per i due Materiali Qualcosa Bianchissimo Nooo Ok Trappole Cioè 27 di vita Quell'altro Ha 27 di vita Ragazzi Bravo Tutte e due Gli ha dato Eh no Beto l'atterraggio Guarda come gli ha preso La kill Guarda come gli ha preso La kill Che schifo Vabbè Vaitato a morte Gli ha dato la kill La killa Gli ha Zip Quella sotto Eh Che cazzo Ce l'hai sotto E' anche scoperto Occhio bravo Ha messo subito la scala No glielo ossilla quello con l'arco Vedrai Porca proia Vabbè chiudi sopra E' come distruggere La vita di una persona Questo Mamma mia Cattivo questo Cattivo Arco di merda Che arma Che arma inutile Che arma inutile Che arma inutile L'arco Parlo gg Che cazzo Dai Ehi Sì 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 Sì